sono ben bello il vostro sander roberts mi raccomando stavo dicendo prima stavo dicendo lasciate i commenti soprattutto ragazzi sentite l'umore vicino alla porta perché mi organizzano un atto ragazzi che lo faccio entrare ve lo faccio vedere vieni ferma 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 stai qua stai qua saluta la telecamera dai lezare azzare e scusate un po' eccitata voleva entrare in camera da letto saluta la telecamera saluta ehi già di qualche cosa ragazzi mi raccomando tieni ehi qua qua però devi stare ora ragazzi se il video se vi è piaciuto lasciate i commenti soprattutto i commenti e noi ci si becca al prossimo video